Carte binarie turudurum turum Vai Uno Aspetta no, però un mappo non lo voglio guardare Come uno Vai, io ci sono Io? Ah ma siete già nel salvataggio? Partiamo da... Dal salvataggio, si Ok Tre Due Uno, via Eh, testa di Cazzo Sto nemmeno giocando io, nessuno si fermava No, no, no Ok Che carino Chissà se ci sono Le 100, beh, penso proprio Isi Matti butta fuori Da livello, vero? Vedremo Mi da quel Royal Legacy Vibe Sì, quindi un bel vibe Sicuramente Ma è pieno di monete Questa è la mia ride, quindi... Mi salta un bel po' No Ma che cosa ha fatto? Sì, non è non stop ragazzi Stop? No, no, no No, no, no Esci da libero quando prendi la... No, 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 non stop Eh, no, non è non stop Sì, ma c'è davvero il cimpe... Il cagnaccio che funziona qua? Sì Sì, è assurdo, cazzo Cagnaccio Come sai? Può darsi... Una... La buildata sopra Bobo un battlefield E quella è la... Però fa la pinta, eh No, non funziona Ma che cazzo? L'hai vinto Hai detto troppo presto Ok Ma ma, penso ci siano 200 monete In sosteggio, cazzo Le 100 sono free? Sì, le ho appena fatte E ci sono i... Goomba, quelli di... Ricordo Perché sento la musica del castello dopo che ho preso la 100 Ma? No, io... Oddio, anch'io Che brutto Ecco, ha riparso il biscottone d'oro No Minale Wow Nobunni Punish Cringe Quindi la prima... Le prime due stelle sono state le reds Chiaro Oh Dove va a fare... Eh vabbè niente Ho deciso di non darmi le monete al palo Nooo Sembra abbastanza chill come Roma Nooo porco il signore porco A me fa ridere come viene speedrunnata ogni per sempre Zero stelle Abbastanza Dove ho la bomba? Ma non posso fare più bombi Poi... Ah, c'è un... Ah ecco A me la musica non si è buggata Per l'accento Ma... Il change on funziona? Ma non funziona, però Eh... Non avevo detto? Eh vabbè Sembrava... Sembrava vero, cioè Ho messo davanti lì E uno dice Cazzo qqqqqj Ah c'è arriva kqqq C'è una Qu Brill... Allora, il primo che finisce restare un M.A.C. gli do 15.000€ Ma? Non c'è un M.A.? Però il secondo muore Porca matosca Allora vado a seconda Non so se... A parte, intanto sicuramente sarà Muppets No, 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 non posso perdere Nicola Mi dispiace Ma qui come funziona la storia? Il terzo partorirà con dolore Cazzo Non voglio... Mi sa che non la completerò allora Ok, è stato veramente set upato male sta... Quark box, la odio Dov'è l'ultima razza? Che caso Come si chiama la box che rimbalza? Tipo quark box, una roba del genere Ciao Ciao Zetamette E' qui per giocare a Mario 64 Romac? Ma la cosa c'ha presa la re... Merda, se c'è una bomba fai bomb clip No, non fatta per sempre Niente, è futtosamente deciso Ok, dove è rimasto? Dalla bomb clip police Dalla bomb clip police Ah, f1? Ho fatto change out Ok Eh, non ci siamo Però si può fare quella stela, l'ho appena fatta Cioè no, ma il modo inteso non è quello WTF È un bait Ok Sì, è un bait Penso di aver capito Great bait, mate Eh... Spasmi muscolari Questa è la course 4 Allora, farò prima la 4 Ma non avete mai giocato a questa? No No Stupidi Come questo? Questo seriale pare un solo livello Ma perché è molto memato Quindi tutti hanno andato per scontato Che l'un l'altro l'avessero giocato E hanno appena scoperto Che in effetti non l'hanno giocato Giuro Sono testimoni imparziale io L'aurice ha detto 30 stelle si fanno in un'ora e mezza Marco, 6 stelle, 7 minuti Come un'ora e mezza, non ci credo Lui ha scritto un'ora e mezza Io non sono per niente d'accordo Secondo me si fa il suo buon'ora Però magari esagero Anche secondo me Ma forse intendeva il suo tempo Beh, chissà quando l'ha fatto questo romano Ma lui ha scritto 30 stelle si fanno in un'ora e mezza Sono tutte facili Un'ora e mezza è tantissimo Ho poi appena iniziato Un'ora e mezza Oh no Che cosa c'è? Tre bolle? Ho visto già Siamo Marco Albertazzo Qua c'era un'ora Qua c'era un'ora Ah ma che cazzo Non le posso fare tutte? Come Oh ma perfetto Ah, non è da 10 Vabbè ma non voglio fare segreti Ehi bubu Ehi bubu Ehi bubu Allora Unchia Da quando sei l'orso di Yogi? Boh, sempre Non voglio morire con 97 monete Eeeh, penso che me ne andrò Non ha senso vivere Senso molto Grazie Leo Di nulla Matteo Mattia Mattia Niente, fissato Sì, di brutto Eeeh, due monete di gioco Per favore Due monete Prova a trovarle Grande cazzo Questa è una gran idea Mi spiace, sono tutte nel primo stage Meno male c'è Matt che è effettivamente da runner professionista che può dare una mano su queste cose Porto e tu sono morto Allora fai una roba Non ti suicidare da solo Io avevo imparato qualche stella di questa roba Non voglio uccidervi entrambe, solo uno Sono dopo Vado nel L'inferno delle animazioni Biscotto d'oro Allora Allora Evidentemente non ho capito bene come si fanno questi salti Mi servono Monete Dai un uomo cento monete e si prenderà una stella Insegna un uomo a lavorare e guadagnereà monete per tutta la sua vita E cento venti stella Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia Hai visto Matt? Sì Ok vabbè, questo me lo merito Massacrato spurato o spisciato secato ma c'era ciao buonanotte da pieno ti spacco la faccia io anche capite marco? nooo spaccarti l'erosolo questa è una challenge interessante che farai al secondo tentativo? vado vado aspetta orca non credo qua c'è solo questa roba ma c'è la moneta somebody please che cazzo di merda gioco ahhh tre monete in buffle 3 non ci sono stelle vero? no no oh bella bobomba che ci fai qui? si fa solo la sta musichetta mi piace un botto spalla mmm spalla non c'è anche una cosa no 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 ahhh non vedo l'ora che arrivi periodo dicembre in cui c'ho la mia depressione molto bella nel senso positivo inizio a guardar roba ok riforma depressione bella nel senso positivo aspettate riprendi gli anime stagionali merda ha capito un sacco ha capito tutto sapevo tutto sapevo tutto sapevo tutto era abbastanza provvedibile io non è nulla questa season Leo fa schifo onestamente mi aspettavo la tredicesima come risposta io io aspetto la tredicesima ok mi serve però mi sa che quest'anno non ci fanno i regali di natale faccio ok te sei qualcosa? ok vabbè c'ha lo slider lo slider the piece ti sei dimenticato qualcosa Marco lo slider the piece beh prima ti sei dimenticato qualcosa ah vabbè segreto? si orca non si può dire cosa sei dimenticato? oh ok non lo posso skippare ma vaffanculo dun 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 da dimmi ciò che vuoto c'ho qualcosa a poco nice ah ma mi sembrò ci fosse un vuoto veramente ben nascosto comunque un punto che tipo di punto tanto lo star display mi diceva che c'erano di stelle no fa anche fare side flip sull'altro muro comunque no ma ci può fare perché mi sembrava un angolo così e scomale se lo sbaglio puoi fare buono non lo so no ti gioca ce l'ho fatto non ci arriva la nostra caccia non è vero che stanno male non vedo in cui la metteva sempre ma l'ho messa prima solo che gruppi non c'è ma adesso dimmi quando te l'ho chiesto forse forse lo stesso momento in cui e ha ricevuto un'educazione a modo ovvero quando eri in quinta elementare bravo mario ti sei spaccato tutto è così difficile giocare il mio coach di smash quando perdono tutte le partite e fa venire in mente di tafokins marco ciali che dice che tutte le musica di star max sono belle tranne questa alien capisci un cazzo è bellissimo questo alien non capisci un cazzo argomento not related questo è il cannon shot perfetto so tutto zitti tutti mamma mia non è perfetto se non hai preso la stella c'era il blue coin switch lì l'ho visto adesso ma nel livello della lava c'è un blue coin switch l'ho visto lì ci sono andato a porco di io dove devo andare qui wow bello me l'ha cancellato istantaneamente allora te muori stronzo incredibile incredibile ma io te lo devo andare ok vabbè è come marco marco merda sono bravissimo il giro metto i dash sono andato ossa di pettiroso e morso porca puttana crunch non era un crunch non era un crunch ancora più devo per caso rifarlo no per favore no siamo 3 contro 1 più forte però però sono più importante di voi ma io non ho detto che deve rifare ho detto ne devi fare uno più forte ok che fastidio stai mangiando il ammetteci prego non parlo mai più smr stai facendo i provini per la mente ha detto ma che ti stai mangiando provi a indovinare il sedano una cipolla le pringles quando è che sono fatte di qualsiasi materiale sia come questo il polistirolo no ma perché sono marco è già 26 stelle incazzato nero ma comunque non ti ho nooo c'è benvenuto ne ho visto fare uno sguicchi dritto ma è il quicksand ottime blue coin porco dio maledetto ho trovato la quicksand ragazzi ma non veramente schifo ste planche ma ma andate a fare in culo biscotto vuoi romhiker di merda che fate le piattaforme così ma fate le soli di dio porco cosi fa shfar? mo ci va oltre ma che che biscotto? vediamo chi vince questo incontro fra gli ucciati biscotto dalla camjar di bowser oh shish io l'ho vista quella romhiker ti gioca merda ma te ti sei perso sonic fanbase 64 è una grande perdita ma davvero sto veramente piangendo due ore siamo stati a fare blg per due ore di fila tutto per prendere per entrare a girby le persone più contente del mondo di entrare a girby perché te non sei felice di entrare a girby ottima risposta che ball non si può fare mai tutte le stelle più belle si ce n'è una ce n'è una tipo da 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 fare col cap da col cap in anilio si una con il win cap l'altra con vanish il terzo non sa che sia vero eh ma i switch sono no vedremo che sono in dobi i switch non proprio no non sono in livello ma quale livello quando ci arriverò lo vedrò ok adesso sono in bowser nella corsa di bowser e niente che male può fare per giocare a smash free for all 4 gioco puttana madonna parli di ironia e dentro ui ui forco di quel dio ma marco la stella è per velocità la seconda non c'è timer quindi no marco questa è la stella più bella di tutta la roma sì ho visto di fare i goomba bounce ah boh che ammazza goomba bounce sì però altre monete ah con la scatola e poi la red sotto cosa? ok sì mi mancano un botto i red dove cazzo sono? se sono tutti in acqua mi sparo di boi ciao mario sei un po' fuori dallo schermo se sono palese tutti in acqua porco di 26 stelle qua swimming simulator posso fare wall kick qua? che cazzo oddio quella del livello del ghiaccio cos'è? si è fermato a pensare nooo c'è una bobomba rosa ma il pinguino che ti dice thanks bro marco per quella stella là in alto si può fare BLG in un punto quella stella lontana laggiù però non ti consiglio di farlo ci arri- non ci arriva ecco quello la non non ti dico niente c'è no esatto riesco a premere A 6 tol per dirlo e cioè le premere A pulsante verde in questo caso è BLU però vabbè aspetta nel 64 è verde o BLU il tasto A? è verde in teoria no? aspetta ce lo affianco cosa ti dico? hm io non ne ho idea dovrebbe essere BLU quello tipo A è BLU è verde e B ehm facciamo a serenze bellissima la sua stele bellissima la sua stele lo vedo anch'io che c'è una switch sott'acqua ma come la dovrai premere? bene eh stage 2 non la posso finire no no cosa però eh ok hm qui cosa c'è? no no ma sono segreti questi no ma sono segreti questi eh wow grande Marco così mamma mia del trigonometrile ok sono molto confuso da come devo fare l'ultima stella no 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 ti poco cazzo comunque su sto ancora non mi sono proprio incollato quella frase che avevi messo su gruppo fuori per far ridere che tipo si stava parlando proprio di quella cosa e tipo appare e veramente poi ti dice porca merda l'ha letto ho detto lo sa lo sa quando si parla gli sono fischiate le orecchie ed è entrato nel server ah ma la ma la cosa di si si delle parti c'è e poi sembra anche una poesia infatti l'ho messa a corsino beh che dire non controlla te thanks bro ma per cazzo ma le cozze le cozze le conchiglie sono messe per ti sei perso qualcosa eh mi sa anche ma starò più attento mamma mia sto salto che puro marone oh telecamera porco dio ok sì dentro le conchiglie mi ha messe solo per scena ci metterò a 13 anni a capire dove cazzo devo andare ed è parecchio studio nooo ma si metto vaffanculo vaffanculo nooo ho fatto l'asciugata più lenta veramente infami devo mettere con le box no ok c'è una stella ok ah questa è la va mi sembra il gaccio e questo è un piglio di puttana mi sembro io gran pando il gaccio oh un fischio di troia no oh com'è sto matchup ma vaffanculo ho provato 10 volte ah ok mario tu hai cliccato fisco marco il clip autovisto ah ok è tutto no i mappets blocchi sono santi o c'è schienati i mappets blocchi vediamo se questa volta vinti ma è davvero così difficile prima ah 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 che bello stella donk ey konb si chiama come si chiama è quasi vabbè qual era la stella bella matt la stella bella non lo volevo adesso e soltanto se le parla oddio mio che figo che si deve scoprire nicola due volte di che stage stai parlando terzo dovrebbe essere di un mario kart si è di qualche mario kart che non è di qualche cosa sia del deserto di acquisto del deserto marco accendi fortnite o se facciamo tutti sessione fortnite ci sono anche se ne sono già interessato potete andare in lobby 3 non in lobby però te vini con tutta la squadra insomma hai ragione marco è moltoissimo si si arrivo datemi un attimo the whole squad io comunque ho anche caricato coso il nuovo mario kart no no marco vai tranquillo che sarò max finisce in un'ora e mezza un'ora mazza due ore 4 ore 16 ore tanto alla fine è facile mi sa che non comprerò più giochi della suce ok è understandable in realtà basta che vai su quel sito russo con offerte di computer marco sta strato e l'hai già vista o no sono un genio e nella mia testa funziona e funziona anche in speedrun per davvero si la scuola cosa servirà sta la c'era una grata o ah qui c'è lo stronzello l'ho preso 3 stelle marco c'è un glitch per andare in end spree col pinguino ah si è ovviamente bello eh si però tipo nel punto dove l'hai preso ah ok è veramente bello ciao bella brutto non vado a metà al capo in questo stage quindi mi sa che devo fare tipo mi devo buttare sul eh già ora ti divertirai un mondo no davvero c'è bisogno di sapere no 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 vi posso dire che c'è un metal cap però vi divertirete un mondo ecco ma qui sopra cosa c'è? non ci sono stati ah ok era un jump dive la tec di merda la ricorda ecco io ho imparato tipo la chanto di sto stage ah l'ho visto il metal cap però adesso non mi ricordo non l'ho ancora attivato n'altro non l'ho ancora attivato neanche io non ho switch attivato non l'ho trovato oh no ho fatto l'accento di sto stage è bellino? si cioè speedrun parlando in termini di speedrun si ok lo skate l'avevo trovato a qualche parte ah ma è questo qui immagino Ma buono, come si mette le porte Lui? Ma fatto che il mappo fa sempre gli steggi al contrario Boh, il primo che vedo E l'ho fatto in fila Prima quelli avanti e poi quelli dietro Era un bel persi Ah, ho trovato il metal Wow, perché là? Ho perso un biscottone d'oro gigante E' un ruolo assurdo Il switch è pesante C'è la fissa per il sito dei biscotti Ma fissa Sì Marco sei fissata Un biscottaro Il biscottaro Ma no A me è un po' Non ha neanche mai fatto i biscotti In vita sua C'è che le porte Avresti skippato veramente tanto Marco Secondo me si può fare Ok va bene, la smetto Mi sto divertendo Ok ho capito Devo fare side clip perché queste piattaforme sono la morte Anche la bomba Che ti ha per il canale Ma che bastardi Non ci ti Non puoi fare Ah Sì La neve è quella che ti ammazzo La neve La neve è forte La neve ti risucchia Dicei a livello della neve A livello della neve No solo Ma dicevo aniconica Matt qua poi farebbe lj o sbaglio Forse no Sì perché c'è un muro invisibile lì C'è in avanti C'è un muro invisibile Sì Facciamo lo slider allora Eh oh 38 minuti e 22 stelle No no ma ci si mette un'ora e mezza Forse due No ma ho capito dove si prende gli switch Ma forse ho capito aspetta Ma questa è quella che drannava C'è un'altra stanza Sì Oh eccoli Oh Non so l'hai capito Maggiardo eclippava attraverso la porta di Bausch Ma boh oddio Vabbè L'avrei fatto prima Tre minuti per la scienza Ok Marco il tuo momento Fammi vedere sto 1 e 20 Sì aspetta un attimo Quel salto si fa con speed kick Double jump dive comunque Davvero merda Sì È veramente difficile Ma come era sopra Donkey Kong letteralmente È parecchio Ma vai via Mamma mia L'ho mesciato fortissimo Ci sono due stelle in questa stage Ma vaffanculo Non fosse più alto Ma è già finito Sì Ok Adesso mescerò col mio No è già a forma di stella Non posso fare La merda Schifoso Don't joke a the trolls Ma ho sbaglio O è volato Veramente veloce Ah Ho visto dove la stella Affanculo No Marco sei partito Tipo 20 secondi più lento Ah ok Ma mi fa troppo male al cuore Spinnare con sto controllo Non farlo Quale controllo? Quello del 64 Mi sa che non c'è lui Infatti Ah Non l'ho toccato Ui First ride Viziot Marco sei pronto alla fine? Non lo so C'è una bella immagine Ho finito adesso Ah Bellino Bellino Simple Simpli flips Quanto è passato? Due ore quasi Sì due ore Quattro ore Sei sette ore Due ore e mezzo Come ha detto Loris Voglielo scrivere Viva adesso Bellino sta romacca Comunque Molto chill Molto movement Più o meno Più o meno Un ottimo aggettivo A me piacciono questi aggettivi qui Basta scrivendo il tempo a Loris E glielo mando Un ottimo aggettivo Nice Un ottimo aggettivo Un ottimo aggettivo Un ottimo aggettivo Un ottimo aggettivo